Una realtà nata da pochi anni, una squadra costruita con l'intento di raggiungere con programma triennale la partecipazione al campionato di Serie C2. E questo è l'obiettivo della Scandone Montella Femminile Calcio a 5 che vuole abbattere ogni barriera. Ad illustrare il progetto il tecnico William Garofalo. Il progetto Scandone Montella Calcio a 5 femminile nasce per dare l'opportunità a chi, amante del calcio, possa dare fatto calcio a pallone anche se sia del stesso debole rispetto allo sport della quale stiamo parlando. Quindi abbiamo avuto delle note di rispetto, però sai, parlandone con il calcio della barra, sai, ci piacerebbe giocare a calcio, sarebbe bello e tutto. Abbiamo iniziato a creare un gruppetto di ragazze che avevano tutte quante la stessa passione. E ci siamo ritrovati così a crescere di anno in anno nel numero. Magari non mi riesco a guidare, però sai, è sempre bello avere ragazzi che giovanne a calcio. Quali sono i sogni e i programmi per l'immediato futuro? Allora, per l'immediato futuro i sogni sono presto detti. Praticamente è quello di creare un gruppo per poter affrontare un campionato di categoria. Ossia, anche a livello direttantistico, però magari affrontare un campionato di GCC partendo dalla minore delle categorie, quindi la Sari C2, viene da far conoscere anche nella zona dove siamo, quando non è troppo conoscito, il calcio femminile. Quindi la nostra idea è questa qua, fare un progetto anche triennale, magari, già stiamo al secondo anno, dove poter arrivare a giocare magari in vari pala sport, con altre squadre e confrontarci con altre realtà.